Sono ritenute le responsabili di una serie di furti in alcuni esercizi commerciali del centro cittadino commessi tra il 17 giugno e il 27 settembre di quest'anno, nonché dell'uso di Bancomat rubato ai legittimi proprietari. È stata denominata I Love Shopping l'operazione che a Vittoria ha portato all'arresto di due ragazze, Lorena Martinez di 22 anni e Angela Carvana di 27 anni. Le donne sono ritenute responsabili di furti commessi con destrezza a Vittoria in esercizi commerciali in un arco temporale di quattro mesi. Sono circa cinque furti contestati nell'ordinanza di carcerazione ed in due di essi è stato anche contestato l'utilizzo in debito presso i sportelli Bancomat delle testere che sono state asportate ai legittimi proprietari. Da diversi mesi la polizia era sulle tracce delle due ladre, diverse le segnalazioni e le confedenze che poi sono risultate veritiere circa l'attività criminosa posta in essere dalle giovanissime. Le due ragazze agivano insieme, spesso con passeggino e bimba al seguito, raggiungevano l'esercizio commerciale preso di mira, già opportunamente individuato, e al cui interno vi era sempre solo la negoziante o la commessa di turno. Una volta all'interno, le due malviventi, fingendo di essere potenziali clienti, agivano distraendo prima l'attenzione della negoziante o della commessa, intrattenuta con generiche richieste di informazione sulla merce esposta, cosicché una delle due complici poteva liberamente girovagare all'interno del negozio ed una volta avuta cognizione della composizione dei locali, procedevano ad asportare quanto di interesse. Compiuto il furto, le due si allontanavano in fretta dall'esercizio commerciale, fondamentale le segnalazioni delle vittime, che ha permesso alla polizia di individuare il modus operandi delle due giovani ladre, ma anche la descrizione fisica. Risolutivo poi è stato un controllo su strada effettuato dagli agenti della volante su un'auto a bordo, delle quali viaggiava una delle due donne, che ha permesso di indirizzare le indagini, consentendo ai poliziotti di notarne meglio una, su cui avevano già avuto particolari indicazioni confidenziali, convivente peraltro di un soggetto con vari precedenti penali.